Buongiorno ambasciatore, il mio nome è Beatrice. Le volevo chiedere cosa l'avesse spinta a intraprendere una carriera diplomatica. Beatrice, buongiorno. Sono stato spinto dalla passione suscitata in me dall'organizzazione internazionale, il diritto internazionale all'università, dal desiderio di conoscere il mondo e anche dall'amore per le lingue stranieri. Inoltre vorrei chiederle quali aspetti della cultura tedesca l'hanno colpita in modo particolare. Quello che ammiro di più nella cultura tedesca è l'importanza che i tedeschi attribuiscono alla cultura, che è uno strumento di soft power, è uno strumento per migliorare la società, per incidere sul progresso tecnologico e anche un grosso veicolo di conoscenza fra paesi e popoli diversi.